appassionati di sport gentili radiascoltatori ben trovati con questa nuova puntata di tg assist tutto lo sport locale e regionale ma approfondiamo il discorso basket con il nostro ospite di oggi tifosissimo della castellano udas amante ed esperto della palla spicchi stiamo parlando di pippo metterangelis ciao pippo ciao a tutti bene pippo partiamo analizzando insieme il cammino dei record fatto finora dalla castellano udas 12 vittorie su 12 un primato in contrastato a più due sulla seconda ostuni da tifoso ed esperto di basket ti aspettavi questo avvio della squadra di coach totaro aspettarselo sì ecco in due parole sì però tutto sommato bisogna vedere di fare o di dire le cose per come stanno veramente cioè l'udas già dallo scorso campionato si era attrezzata in una certa maniera non era lo scorso campionato non era la squadra più forte del torneo e giustamente non non l'ha vinto ha rischiato di vincerlo ci è mancato veramente poco però c'erano altre squadre che erano sicuramente più forti di noi penso soprattutto al nardo che poi insomma la squadra che realmente il torneo se l'è portata a casa però erano già state buttate le fondamenta per per far bene per far bene quest'anno e quest'anno soprattutto grazie alla disponibilità che c'è stata data dalla famiglia castellano ci siamo mossi per tempo ci siamo mossi si è mosso soprattutto giuseppe di giorgio e carlo carlo mancini si sono mossi per tempo hanno fatto le cose per bene e sono riusciti poi peraltro a portare qui delle individualità molto molto buone di grandissimo livello prese tutte quante insomma da paesi qui intorno perché comunque parliamo di barletta per la maggior parte o comunque della di perli cuori di torre maggiore realtà tutte quante a noi qui molto vicine e andando a pescare questo insomma questo grosso fenomeno che è ionicas perché insomma veramente è un giocatore straordinario veramente straordinario poi possiamo parlare di tutto cioè seguivo un'intervista fatta a voi qualche settimana fa di 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 guglielmo serazzi insomma meglio non si poteva fare 12 su 12 insomma è tanto è veramente tanto imbarazzante e siamo una realtà comunque che c'è sisticamente e molto ha molto da crescere progressi ne abbiamo fatti tantissimi ma il cammino è veramente lunghissimo e intensissimo abbiamo avuto peraltro la fortuna di avere con noi un coach è veramente un grosso personaggio del basket io adesso non so se tu volevi parlarne o da parte di di matteo totaro però ti posso dire che matteo totaro è veramente un grosso è stato per il basket diciamo della provincia di foggia un un giocatore grandissimo e è vero che matteo non ha esperienza come coach perché ha finito il suo corso di formazione il suo i suoi il patentino l'ha preso quest'anno tanto che lo scorso anno giocava con noi ha giocato con noi le prime 6 7 partite questo lo sanno tutti però la cosa che nessuno sa o comunque nessuno sa bene e chi era veramente matteo totaro quando ha giocato a pallacanestro e questo su questo vorrei magari che ci fosse una maggiore attenzione sai perché perché di personaggi come matteo totaro io sono certo che noi abbiamo veramente un grossissimo bisogno giusto per spero di non fare torto a nessuno dicendo rivelando delle cose che non dovrei rivelare eccetera ma matteo ha giocato molto in serie a ha avuto delle enormi soddisfazioni ha giocato in tutta italia ma veramente in tutta italia lo stivale se l'è fatto tutto per intero io ti potrei dire tantissime cose ma è uno che è nato ieri come coach è uno che di spogliatoi ne ha vissuto di aria di spogliatoio di sudore di rabbia di di agonismo da spogliatoio di cose ne ha viste veramente un'infinità io che ho il pallino di di sentire raccontare delle storie con lui ho cercato a lungo di parlare lui non è uno che parla molto è uno sempre basta guardarlo in faccia sta faccia di pietra che già no sempre sempre cattivissimo invece giuro una delle persone più buone in assoluto che io conosco è proprio il contrario di come appare però per dirtene una insomma quando matteo totaro era al massimo della sua carriera il brescia per comprarlo dall'avellino ha tirato fuori parecchie centinaia di milioni di lire cioè non è un giocatorino sai il ragazzino che è passato così è uno che è stato 20 anni ha mangiato pane basket ha sentito ha sentito veramente parlare di basket da allenatori che gli hanno insegnato il mestiere ma non sotto il profilo teorico andandoglielo a insegnare sul campo sul parquet come si fa per cui noi abbiamo dei grossissimi talenti in campo non c'è dubbio ma un grossissimo talento ce l'abbiamo veramente in panchina e quando sento qualcuno che sai ma è ma sai è ma sai è ma sai sarei molto cauto su queste cose perché di matteo totaro non si può che avere un rispetto straordinario perché è veramente una persona sta poi se vuoi che ti dica tutta la verità in alcune sue scelte tecniche e tattiche io non le ho condivise non le condivido ma non mi azzardo minimamente anzi forse lo sentirà adesso o se mai sentirà questa intervista ma non le condivido non le ho condivise ma se lui lo fa lo fa perché sicuramente ne sa centomila volte più di me insomma io di su di lui ha una fiducia una fiducia cieca poi la bellezza è proprio questa insomma con tutto quello che si è creata l'atmosfera e quant'altro beh la situazione insomma ce l'avete sotto sotto controllo pure voi insomma che un attimino attraverso i mezzi di comunicazione avete approccio più dire con l'ambiente sportivo ecco facevi già cenno tu agli acquisti quest'anno il presidente di giorgio tutta la società bianca azzurra si è mossa e tanto sul mercato fissando l'obiettivo promozione secondo te qual è stato l'acquisto più importante che ha dato una scossa all'ambiente allo spogliatoio e che ora si sta rilevando decisivo per questi risultati fabio è naturale quale è una domanda che forse cioè parliamo di 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 questo ragazzo questo gigante lituano che c'è capita è arrivato qui molti molto pochi credevano che avesse veramente tutto il talento che si diceva avesse io la prima sera che lui è arrivato come sempre peraltro erano era fine agosto stavamo vedendoci il l'allenamento che stavano facendo fuori nel primo suo in assoluto la prima sera che si allenava e insieme a filippo de luca che diciamo un mio compagno di merende su queste storie qua vedremo gli vedremo fare una cosa straordinaria tanto che tutte e due insieme contemporaneamente ci alzamo gridando uscimmo fuori dal dal palazzetto perché veramente aveva fatto un numero di altissima scuola per lui ci è voluto un po di tempo loro sono parlò di dei nordici in generale sono molto freddi proprio di carattere non sono molto diversi da come siamo noi lui forse lo è ancora di più perché oltre ad essere nordico probabilmente anche chiuso di carattere però ti posso garantire io sono stato insieme a lui moltissime circostanze in moltissime occasioni e ogni volta che mi è possibile cerco di 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 carpirgli qualche perché ti ho detto sono fatito di storie mi piacciono le storie minime e le storie piccole all'inizio era un po contratto insomma ambientarsi un po eccetera eccetera però ha trovato nell'ambiente udas che è un ambiente molto particolare la situazione ideale per potersi velocemente mettere al passo con gli altri che avevano cominciato la preparazione una quindicina di giorni prima di lui e soprattutto sfoderare il talento immenso che questo ragazzo c'ha cioè gli abbiamo visto in questi giorni le ultime partite le ultime quattro cinque partite sono state cioè devastante non è marcabile perché altissimo quindi devi essere già tuo tuo alto 2 5 2 6 di tuo perché poi è buono anche sulla sulla sull'elevazione è buono sotto è buono dalla distanza è buono dappertutto cioè diventa un problema un grosso problema tenerlo tenerlo perché non non è poi i numeri di scuola proprio sai altissima il gancio cielo che ha fatto non l'ultima partita a brindisi la precedente in casa con io dovrei spiegare a mia figlia che cos'era il gancio cielo perché mia figlia l'ho contagiata poverina e gli ho spiegato che insomma c'era forse uno dei più grossi dei top five di tutti i tempi che era karim abdul jabbar che lo faceva ed era e gli ho spiegato poi gli ho fatto vedere cos'era su youtube e tutto il resto eccetera eccetera ma lui l'ha fatto qua sotto i nostri occhi che sembrava una cosa che non potesse essere vera insomma da scuola basket a portare i bambini a guardarlo perché non ce n'è tanti ma non ce n'è tanti neanche in c1 in b2 che lo sanno fare cioè stiamo parlando d'altronde insomma credo si sappia lui era nel stato nazionale nel 19 lituano prima di diventare diciamo seniors e quindi cioè non è un fessacchiotto pure lui un fessacchiotto qualsiasi lui verrà e suppongo se tutto va come deve andare che ancora abbiamo un buon margine di di crescita da parte sua perché quando avrà si sarà un attimino proprio liberato completamente di tutti quanti sai insomma i problemi di ambientamento lui abita per dirvi insomma una battuta mettiamola così lui abita nella stessa casa in cui abitava seba sus bieles gli anni passati solo che seba sus bieles insomma era più piccolino di me insomma lui ci entra in questa casa e dorme nello stesso letto di seba sus bieles che non è possibile perché lui al 25 quindi però è una persona straordinaria ripeto il l'ambiente udas e l'ambiente ideale credo per lui per dare il meglio di quello che può quello che sa perché il nostro è diventato con il tempo per scelta è perché per l'ambiente udas è una cosa proprio che ha il marchio registrato di apertura assoluta di farne di fare famiglia di mettere tutti a proprio agio e tu l'hai visto insomma qui è pieno di ragazzi mentre la sta facendo allenamento la prima squadra non è che sono i bambini che sciamano che fanno casino anche quando fanno tattica il martedì Matteo ci chiede soltanto di abbassare un attimino la voce cioè ma Matteo stesso coerentemente con l'idea udas di sport ha preteso che tutto fosse aperto chiunque di qualsiasi altra squadra volesse venire a vedere qualunque allenamento trova le porte aperte da noi non ci sono porte chiuse tutto aperto sempre a tutti perché Matteo crede molto in questo cioè il progetto udas è un progetto che ha trovato peraltro in Matteo anche un grosso interprete perché Matteo chiede che tutti quanti noi ciascuno per il suo piccolissimo pure per una punta di spillo possiamo fare tutto il possibile per mettere a maggior agio possibile i ragazzi per farli sentire bene per farli stare tranquilli per farli sentire sereni e poi perché solo quelle insomma sono le condizioni in cui un atleta può riuscire a dare il massimo e su questo poi è chiaro se noi fra due anni saremo in serie B il signore vorrà soltanto sentirmi in questo momento io non lo so se noi con un altro allenatore che magari potrà anche non essere Matteo Totaro perché boh non si sa mai ci troveremo ad affrontare sai un rigore maggiore eccetera eccetera però l'idea che viene proprio da casa Udas è questa e che insomma finora sta dando dei risultati straordinari perché voglio dire quando anche un tipo piuttosto chiuso, ombroso come Ugo Sierra se è più o meno anche lui adeguato ai nostri standard tu sai che il martedì sera per esempio poi finisce l'allenamento alle 10 e si mangia questi sono lupi eh questi sono... cioè dopo l'allenamento hanno una fame che sono incontenibili gli puoi portare una tonnellata di roba se la mangia non ci sta problema però adesso ci sta la gara sai a portare non lo so la focaccia, la pizza, il dolce con la nutella piuttosto che con la crema eccetera eccetera e loro sono felicissimi di trovare addirittura insomma ragazzi di una grossissima esperienza come Guglielmo Cerazzi dicono non abbiamo mai visto, Giuliano Moserazzi è un altro che ha fatto la serie B, non è un pivello costito, non abbiamo mai visto una cosa del genere e questo contribuisce a farli stare bene e questo contribuisce probabilmente a far sì che certi risultati poi possano arrivare.